Buongiorno e ben trovati con Con l'edizione di mattino 6 di questo mercoledì 15 febbraio 2017 siamo pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali anche per rivedere alcuni dei servizi proposti ieri dalla redazione del TG6. E' chiaramente spazio sulle testate locali all'operazione antidroga che si è chiusa ieri all'Aquila. Per lo sport ovviamente i due cambi sulle panchine di Pescara e Teramo con l'esonero arrivato ieri di Massimo Odo sulla panchina del Pescara e l'avvento sulla panchina del Teramo del neotecnico Guido Ugolotti. Chiaramente anche sulle testate nazionali troveremo una serie di titoli che fanno riferimento alla politica e alla cronaca. Andiamo subito a sfogliare le prime pagine dei quotidiani locali iniziando dalle quattro edizioni del centro. Questo è il titolo d'apertura. Poi sotto la testata un'inchiesta del quotidiano nel centro. Ecco quanto spendono i comuni per lo sport. Poi ancora al centro della pagina leggiamo tutto in famiglia. Padri, figli, fratelli e mogli dal Parlamento ai consigli regionali e comunali. Ecco le dinastie politiche che governano l'Abruzzo. Di spalla alcuni richiami a regione. Bando over 30. A 50 anni si può ricominciare. 300 assunzioni. Lotta interna nel PD. Bersani contro Renzi. C'è già la scissione. Poi caos 5 stelle. Berdini lascia a Roma. Conta solo lo stadio, dice ormai ex assessore all'urbanistica del Campidoglio. A L'Aquila, comitato di genitori chiede scuole sicure. Ditta deve un milione di tarsu al comune. Poi a Sulmona, neve, fango e rifiuti nel piazzale in centro. L'Avezzano, tesoretto dopo 32 anni di cause, vertenza GL. Cassazione riconosce maxi rimborso al comune. Per il calcio di Serie A, Pescara via Oddo si tenta. Per Zeman, prima pagina del centro di Chieti. Leggiamo in basso, visto che il corpo principale della pagina è il medesimo. In basso leggiamo alcuni richiami. Vasto, tariffe, rifiuti più care. Gerardini gela i sindaci. Sempre a Vasto, ubriaco, distrugge le barre e aggredisce Poliziotto. A Lanciano, amianto tra i calcinacci. Sequestrato l'ex liceo. E poi a Chieti, per le frane serve un milione. Voragini, ieri, sovraluogo di Mazzocca. Prima stima dei danni. Prima pagina di Teramo. Leggiamo i rifiuti in basso. Roseto e Silvia, appalti dei rifiuti in sei. Rischiano il processo, l'emergenza. Frane, nuovi sgomberi a Ponzano e Casoli. Ospedale di Giulianova, la navetta per i pazienti. Ora arriva da Teramo. E per il calcio di Lega Pro, Ugo Lotti. Teramo, ti salvo. Il terzo tecnico della stagione lancia messaggi positivi. Il centro di Pescara, Cepagatti. Leggiamo in basso i richiami. Nuova sede dell'Agrario. Protestano alunni e prof. Montesilvano, coniugi e figlia malati. Dateci una casa popolare. A Popoli, scovata dopo un anno la banda dei ladri di Tir. E poi, in basso, Oddo via il Pescara su Zeman. Oggi in incontro con il Boemo per riportarlo in biancazzurro. Ora andiamo a vedere la prima pagina del messaggero Abruzzo. Il terremoto svuota le scuole. A Teramo, nuova evacuazione. Dopo la scossa di ieri, scoppia il caos sui piani di sicurezza. Via al piano regionale per accertare la vulnerabilità degli istituti. Compito alle università. Poi, sotto la testata, Rigopiano. In azione il RIS. Rilievi con laser sul tracciato della valanga. A Pescara, Alessandri, riceve in comune 50 bebè. Lanciano, Sevel, più soldi ai dipendenti per assistenza, asilo e libri. Previsto un bonus di 2.500 euro in due anni. E ulteriori 700 euro per il welfare. Ma sul bagno negato all'operaio, Fimcisl va all'attacco. Un fatto grave di spalla. Leggiamo, influenza, no monossido di carbonio. Tutti in salvo. 17 persone sopravvissute grazie ai nuovi kit di intervento del 118. Poi, a centropagina, Chieti, Frane e Voragini. Due milioni di danni in centro. Per lo sport, la fotonotizia, il ribaltone in 24 ore via Oddo. Torna Zeman e poi in taglio medio colpo di fucile mentre lottano. Padrone di casa ferisce il ladro a spoltore. L'uomo armato ha sorpreso il malvivente in giardino. E poi leggiamo nel richiamo Jennifer Lex in carcere, divorato dal rimorso. A Montesivano suona l'isizza regina del piano. La prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Prima protesta al casello. Decreto terremoto. Valle Siciliana prima a muoversi. Sabato a Colledara. Poi, la fotonotizia. Impanicati per una scossetta. Terremoto durante le ore di lezione. È stato un disastro. E poi, l'editoriale del direttore Alessandro Misson. Siamo ancora al 24 di agosto. Il giorno. La data nefasta del terremoto che ha distrutto praticamente Amatrice, Accumoli e Pescara del Tronto. Poi, sotto la testata, le agenzie immobiliari ridimensionano il fenomeno. Lo spopolamento è stata solo una fase transitoria. E poi, Roseto e Silvia, appalti sui rifiuti. In sei rischiano il processo. Di spalla leggiamo. A Tortoletto di Stanislao scende in campo per le prossime amministrative. A Giulianova per i genitori classi al sicuro all'ex tribunale. Primi fondi per l'emergenza frane, il Ministero e Anas preparano la prima lista della spesa. E poi, in basso, il nuovo allenatore, ovviamente del Teramo, Ugolotti, si presenta. Chi non ha rabbia non giocherà nel mio Teramo. Esaurita la parte dedicata alle prime pagine delle testate locali. Ora andiamo a vedere le prime pagine delle testate nazionali. Partendo dal Corriere della Sera. I venti di scissione agitano il PD. Bersani, la divisione è già avvenuta. E Veltroni, fermatevi. Renzi, unisca. Domenica l'Assemblea nazionale. Il colle preoccupato per la futura governabilità. E poi, la fotonotizia al centro. Attaccato da due donne all'aeroporto. La saga di Kim ha avvelenato il fratello. L'editoriale di Franco Venturini. Vertice da Trump, l'alleato che serve a Israele. E poi, in alto, leggiamo via Berdini, verso il Sialo Stadio su Marra, Grillo contro i media. Possiamo andare avanti con la prima pagina di Repubblica. Anche in questo caso, le vicende legate al PD guadagnano l'apertura. PD rottura sempre più vicina. Bersani chiede altri due mesi per evitare la scissione. Amorfini chiude il congresso e poi le elezioni. Renzi, mi dimetto e resto reggente. Subito commissione d'inchiesta sulle banche. E revoca dei vitalizi. La fotonotizia al centro. Jelen contesta Trump. Frena la crescita. Mogherini rivedere i rapporti con gli Stati Uniti. E poi Cacciato Flynn, consigliere per la sicurezza. Roma è a pezzi. Maraggi pensa allo stadio. Berdini lascia e attacca. Periferie sprofondano di spalla i 10 grammi del ragazzo di Lavagna e i miliardi della mafia. Il suicidio è gesto privato, ma le responsabilità sono pubbliche. Avanti ancora con il Fatto Quotidiano. Le post falsità per azzoppare Luigi Di Maio. I grandi giornali e il tagli e cuci degli sms. Conaraggi per incastrarlo sul caso Marra. Berdini, scavalcato sullo stadio, lascia. E poi Di Maio, io dissi a Marra, non aveva la nostra fiducia. Cantone, Raggi, mi cercò, Larai e altri mi ignorano. In taglio medio il Colosso del Tabacco e i 17 mila euro all'Associazione del Sottosegretario. La donazione della Bata, la creatura di Baretta, che organizza il convegno per le lobby. Avanti con il messaggero, divorzio in giunta sullo stadio. Berdini, dimissioni irrevocabili. Dopo il primo sì del comune al progetto Tordivalle. Raggi prende le delle che si va avanti. L'assessore, addio legalità. La città sprofonda. Poi ancora l'editoriale di Alessandro Campi. Da Trump a Emiliano, a sinistra come a destra, gli outsider, svuota partiti. E poi ancora la riforma Madia, statali, piano per assumere i precari, premi al raggiungimento di obiettivi. In taglio medio, intanto la fotonotizia in Malesia, in esilio, forse ucciso da due donne della Corea del Nord. Il fratellastro di Kim Jong-un avvenenato. E poi ancora PD, lavoro in corso per la scissione, Bersani dice, e nei fatti, da Renzi solo dita negli occhi, deve riflettere, sale il ruolo di Orlando per evitare la rottura. La prima pagina del tempo che apre così, che brutta fini, gioco di parole chiaramente in riferimento all'ex presidente della Camera. Da Montecarlo a Corallo, Gianfranco indagato per riciclaggio internazionale. Di spalla, leggiamo, divisioni irrevocabili. Berdini lascia avanti il prossimo. L'unità, prima pagina dell'unità. Non facciamoci del male, PD domenica l'avvio del congresso, ma l'ascissione della minoranza non è più solo un'ipotesi. Bersani avvisare Renzi, pronto ad andarmene. Pisapia riparte dai sindaci di centro-sinistra. La prima pagina della stampa. Gruppi di potere controllano il sindaco di Roma. Intervista all'ex assessore Muraro nel giorno in cui Berdini se ne va. Virginia Raggi ha scordato la legalità, sempre più probabile il sì al nuovo stadio. Poi Wall Street si innamora di Trump. Ma Donald perde il suo consigliere della sicurezza. Si dimette Flynn. Il mattino Tiziana, la verità, nell'iPhone ha sbloccato il cellulare della donna. Gli ultimi messaggi prima del suicidio. Video hot in rete. I carabinieri come l'FBI hanno violato i segreti Apple. Gli insulti dell'ex fidanzato. E poi sotto la testata, chiaramente il mattino quotidiano di Napoli. dà la grande attenzione alla partita di questa sera. Il Bernabeu tra Real Madrid e Napoli. Vamos è il titolo in questo caso. Ottavi di Champions. Stasera la prima sfida. Real-Napoli. Il tridente dei piccoli. Diawara e Zienischi contro Ronaldo e i Galattici. E poi le parole del presidente De Laurentiis. Maradona ci darà la cazzimma giusta. Il manifesto. I palazzinari. Questa è l'apertura. Roma vince la lobby del cemento. Virginia Raggi cede alle pressioni dei costruttori del Via Libera alla cittadella del nuovo stadio. E la linea dell'assessore allo sport Frongia, Berdini, annuncia le dimissioni irrevocabili. E accusa. Si prosegue con l'urbanistica liberista. Libero. Anche Libero apre come il tempo sulla vicenda Fini. Fini indagato per riciclaggio rovinato dalla patata. Da quando si è messo con la Tugliani all'ex presidente della Camera non è più andata bene una. Dalla casa di Monte Carlo al tracollo politico fino al sequestro di 5 milioni di beni. Prima pagina dell'Avenire. Il muro d'Europa. A Strasburgo finanziamo noi le politiche abortiste. Educazione di genere. Ambiguo. Il testo unificato. Il gazzettino. Rebus PD. Scissione o non scissione. Il secolo XIX. Ascisce scuole. I blitz non servono. Il 15enne suicida a Lavagna. Dopo una perquisizione. Il procuratore minorile della Liguria. Metodi da cambiare. E poi la gazzetta del Mezzogiorno. Mezzogiorno PD. Divorzio all'Emiliana. E la verità. I 70 migliori mutui per la casa. Questo è il titolo d'apertura. Tasso fisso. Variabile o misto. Una guida per orientarsi tra le complicate offerte delle banche su varie tipologie di immobili. Sbagliare scelta vuol dire buttare migliaia di euro dalla finestra. Poi in alto l'articolo del direttore Maurizio Belpietro. Riciclaggio. Fini indagato per la casa di Monte Carlo. E poi la fotonotizia. Calenda. La serpe in seno di Renzi. Flerta con il Cavaliere. Torniamo ai quotidiani locali. Lasciando la parentesi nazionale. Andiamo a sfogliare le pagine del quotidiano Il Centro. Chiaramente ripartendo da pagina 2 e pagina 3. Con una delle inchieste del centro. Abbiamo visto in prima pagina. Politica e famiglia. Padri, figli, fratelli e mogli. Le dinastie che ci governano. Poi qui c'è questa panoramica. Chieti sotto lo stesso tetto dei vecchi feudi di Remo Gasperi. Vediamo le foto di Tommaso Coletti e dell'attuale sindaco di Vasto, Francesco Menna. Poi la dynastie pescarese. I Teodoro, tutti, chiesa, partito e consenso. Dalla DC a Forza Italia da destra a sinistra con Roccaforte a San Donato. I tre fratelli controllano almeno 3.500 voti e sono l'ago della bilancia della politica cittadina. Poi nell'Aquilano, tutto per amore ai coniugi Gerosolimo. Storia nata sugli scrani della provincia. Ad Avezzano dominano i di Pangrazio. A Teramo, Tancredi, gatti di Ignazio. Dinastie inossidabili. Il caso di Montesimano. Il sindaco genero di Di Giovanni. La politica a braccetto con l'edilizia e l'assessore Comardi, figlia di Pettine. In maggioranza pesano anche Cilli e Di Blasio. Avanti ancora, pagina 4 e 5. Strutture e costi. Ecco quanto spendono i comuni per lo sport. L'indagine 2014 di Open Police. L'Aquila è in vetta alla classifica delle città seguita da Pescara e Teramo. E fra i paesi spunta la piccola Rocca Casale. Ecco tra i quattro capoluoghi di provincia la spesa pro capite nel 2014. L'Aquila, 45esimo posto, 25,6 euro. Pro capite appunto la spesa. Chieti molto più in basso, 184esima in regione con 5,18 euro. Poi ancora tra gli altri grandi centri vediamo Giulianova, Ortona, Castel di Sangro tra le migliori. Ma le prime dieci sono appunto piccoli paesi come Rocca Casale, primo posto, Pesca Seroli e poi Navelli. Le ultime dieci posizioni, possiamo vedere qui, si va da Letto Palena, 248esimo posto, a Rosciano, 257esimo posto. Poi nelle dichiarazioni degli amministratori, il sindaco Cialente per noi è qualità di vita, l'assessore Diodati a Pescara, chiaramente Cialente e l'Aquila. L'assessore Diodati a Pescara meriteremmo il primo posto, il sindaco Brucchi a Teramo ci aggrappiamo ai fondi dell'Unione Europea, l'assessore Viola Chieti non ce la facciamo più. Ma quelli a zero euro non ci stanno, il sindaco di Torrebruna sono sorpresa da questa classifica, facciamo sempre il massimo. Andiamo avanti con la pagina della Regione Abruzzo, nuova delega regionale, Lolli. Le mie priorità per il turismo, parla il nuovo assessore, il settore attraverso un momento drammatico occorre intervenire con urgenza. In questa campagna di comunicazione dobbiamo far arrivare all'Italia il messaggio che in Abruzzo si può venire in vacanza perché qui è sicuro e pulito. E poi ancora adesioni anche da deputati di altri partiti, Movimento 5 Stelle, commissione di inchiesta su terremoto e maltempo. Enel sospende temporaneamente la consegna delle bollette cartacee nelle zone interessate dagli eventi calamitosi per quelle inviate, stop agli interessi di Mora. E poi in basso Abruzzo Engineering esce dallo stato di liquidazione, nuovo amministratore unico della società in house, si tratta di Franco Di Teodoro. E poi la cronaca a Pescara, allarme sicurezza, scopre il ladro in casa e spara con il fucile. Aspoltore 49enne svegliato dall'allarme esce armato in cortile e sorprende due malviventi in fuga. Nella colluttazione parte un colpo e ne ferisce uno. Telecamere, vie illuminate, no alla giustizia, fai da te il comandante provinciale dei carabinieri. Andrò a parlare con il prefetto. Le armi vanno usate nelle circostanze consentite dalla legge o si rischia di passare dalla parte del torto. Le ronde sono illegali. E poi Movimento 5 Stelle che prende posizione e servono più posti di polizia. Il consigliere regionale Pettinari chiede un tavolo di confronto tra enti e autorità. L'omicidio, il delitto buco archiviato senza colpevoli. La giustizia getta la spugna dopo oltre quattro anni e decine di perizi e scaggianati tre indagati. Un assassino resta impunito. Nessun supplemento di indagini dopo la lettera che accusava un dipendente comunale. E poi Rigopiano, il RIS sul luogo della tragedia. Oggi e domani misurazioni con strumenti laser. Il ministro dell'interno ringrazia i soccorritori tassisti. Battaglia vinta, la toilette gratis, tessere personalizzate per accedere ai bagni della stazione. Una sala ristoro all'interno dello scalo. Avanti ancora lo scontro per il lavoro. Attiva è pronta a bloccare le assunzioni dei tre precari. Il direttore dell'azienda municipalizzata del Bianco commenta le sentenze che impongono il reintegro degli ex lavoratori. Ricorreremo subito in appello. E poi c'è la testimonianza costretto a rinunciare a tutto. Parla uno dei lavoratori che ha vinto la causa sposato e con tre figli piccoli. Oggi in volo al The Hospital onco-ematologico palloncini contro i tumori dell'infanzia. L'idea che divide la città, la nuova Finlanda, fa litigare residenti e ambientalisti. Scontro nel parco di via Pasolini. Il progetto provvede un palazzo di cinque piani. Gli abitanti contestano l'operazione. Le associazioni sono favorevoli. Poi in taglio medio leggiamo. È partita la potatura di 800 alberi. Di Pietro annuncia l'avvio dei lavori da 152 mila euro. e la soprintendenza autorizza le piantumazioni. Idem verso il congresso. L'ascissione non serve. Il PD deve restare unito. Parlamentari, sindaci e notabili locali dicono no al confronto interno anticipato. Ma pochi parlano di nuove alleanze. Castricone sì a proposte alternative a Renzi. E poi ancora a Montesilvano. Commercio. Il nuovo progetto stoppa le affissioni abusive. A palto a pubblicità la società di gestione degli spazi di promozione curerà in un unico pacchetto progettazione e fornitura, installazione e manutenzione degli impianti. E poi di spalla leggiamo. Intervento da 97 mila euro. Via Cavallotti affidati i lavori per riqualificare i giardini. Avanti ancora con la pagina sempre di Montesilvano. Siamo tutti e tre malati. Chiediamo una casa a Montesilvano. Moglie, marito e figlie di 20 anni costretti a dormire in un unico letto matrimoniale. Sono ospiti di un genitore 91enne. Ma così non possono più vivere. E poi ancora a Cepagatti così rischiamo di chiudere la scuola presi dai prof e alunni contro il trasferimento dell'agrario di Villarea all'ortofrutticolo. Le famiglie ritireremo i nostri figli. E poi ancora siamo in Val Pescara. Ladri di camion e pneumatici. Bulgaro arrestato dai carabinieri. Brillante attività investigativa transnazionale condotta dai militari della Compagnia di Popoli. Dopo un anno di indagini presa la banda che rubò una motrice alla italiana Rimorchi di Tocco. Siamo nella pagina dell'Aquila. Arrettata in provincia. Droga da sballo. 14 arresti venduta a operai della ricostruzione e studenti. Il covo in una casa inagibile. E su questo servizio, vediamo, su questo fatto di cronaca per dire meglio, vediamo il servizio confezionato dalla nostra redazione aquilana. Un duro colpo al mercato della droga aquilano con l'operazione Drags and the City 2. La Polizia di Stato ha infatti eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti aquilani e stranieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, avviate nel giugno 2015, coordinate dalla Direzione di Stettuale Antimafia, sono state condotte dagli agenti della squadra mobile dell'Aquila a seguito della morte di un giovane nel 2015, apparentemente avvenuta per overdose. Sono stati individuati quindi due gruppi di persone, uno dedito allo smercio di eroina di altissima qualità in metadone, l'altro attivo sulla cessione di coca ed ascis. Il primo gruppo si occupava di smerciare al dettaglio sulla piazza aquilana eroina proveniente da Roma, rifornendo i numerosi tossicodipendenti e concordando di volta in volta il luogo d'incontro attraverso messaggi criptati. Il secondo gruppo invece era una vera e propria associazione a delinquere, quattro soggetti i quali nel periodo dal settembre 2015 e il gennaio 2016 hanno immesso nella piazza aquilana importanti quantitativi di ascis e cocaina, avvalendosi della circostanza gli altri complici per lo smercio al dettaglio delle predette sostanze. Tra i consumatori e gli acquerenti anche i personaggi della cosiddetta Aquila Bene. Gli associati provvedevano ad effettuare le operazioni di taglio e confezionamento delle singole dosi in un appartamento utilizzato come base logistica a Paganica, una casa inagibile e di proprietà di uno degli arrestati. Mesi di intercettazioni telefoniche ambientali, appostamenti foto e filmati hanno consentito alla polizia di ricostruire nel dettaglio tutti i movimenti degli indagati, anche le operazioni di taglio e confezionamento della sostanza che sono state videoriprese da una telecamera installata nella casa dalla polizia. Nel corso dell'operazione sequestrati mezzo chilo di cocaina del valore di 50.000 euro e 150 grammi di eroina. Nella notte abbiamo dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 14 persone italiane e straniere ritenute responsabili di un traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini coordinate dalla direzione di Stretto l'Antimafia hanno consentito di individuare due gruppi attivi sulla piazza Aquilana. Il primo dedito allo smercio di eroina e metadone e il secondo invece attivo sul traffico di cocaina ed hashish. In particolare per questo secondo gruppo è stato individuato un appartamento nel quale gli associati si riunivano per tagliare la sostanza stupefacente, appartamento che era stato dichiarato completamente inagibile dopo il terremoto del 2009. Gli arrestati, 14, 9 in carcere, 3 arresti domiciliari e 2 con obblighi di dimora sono Pierpaolo Romano, Giovanni Catena, Marcello Duarte Ramos, Elvis Goman, Federico Ferrauti, Grigor Dervisciai, Youssef Bia, Ember Fuscia, Tiziano Panepucci, Massimo Tadei, Irina Minodora Popesco, Alessandro Biasini, Luca Zugaro e Curtisi Vasfi. Pagina di Chieti, o meglio pagina di Chieti sul centro, la città frana per salvare Chieti occorre un milione, voragini sopra il luogo di Mazzocca, c'è la prima stima dei danni gravissimi, la regione assicura fondi di primio, scoppia la polemica su una vignetta e la vignetta è la seguente, possiamo vedere Svizzero, no Chieti, utilizzando lo spot, lo slogan di una famosa ditta che fa cioccolato. Andiamo avanti, Ateneo, verbale censurato, la denuncia di Fusero alla vigilia della decisione del GIP su Rettore e DG. Avanti ancora, paura a Chieti Scalo, Candela di San Valentino brucia la casa in via Penne, finisce in un rogo la festa di una famiglia senegalese con un bimbo di tre anni, i vicini si sono salvati dalle fiamme rifugiandosi sul terrazzo, abitazione inagibile. E poi ancora in basso, Sevel Ulliano difende l'operaio della PP a Tessa, il segretario della Fimcisle in visita allo stabilimento, episodio inaccettabile, non deve più ripetersi. Andiamo a chiudere con la pagina di Teramo, incubo terremoto, ore 9 e 28, fuga dalle scuole, la scossa di 3.6 scatene il panico, quasi tutti gli istituti sospendono le lezioni, sono scattati i piani d'emergenza, poi ogni preside ha deciso in autonomia se continuare o meno l'attività, intanto i genitori mandavano il traffico in tilt, brucchi perplesso, qui c'è una psicosi alimentata ogni giorno, inutile parlare di bassa vulnerabilità sismica perché non c'è una soglia sotto la quale un edificio deve stare chiuso. E poi ancora rifiuti e appalti, chiesto il processo per 6, Roseto e Silvi sotto accusa il dirigente comunale Mastropietro e l'imprenditore Diodoro. Noi ci fermiamo, chiudiamo qui la prima parte di mattino 6, spazio ora le previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi la seconda parte con il messaggero, la città e altri servizi. Di nuovo buongiorno, seconda parte di mattino 6 che riprendiamo sfogliando le pagine del messaggero Abruzzo. Scuole approva di sisma il compito all'università, via al piano straordinario per verificare la vulnerabilità degli istituti abruzzesi, esperti del Consorzio Re Luis guideranno la task force di esperti di massimo livello. Saranno controllati per primi gli edifici dell'Aquila, alcuni saranno rinforzati e altri costruiti da zero. Procedure più veloci se sarà possibile utilizzare le norme che facilitano gli appalti inseriti nel cratere. Poi l'assessore delega il turismo a Lolli, drammatico calo di prenotazioni dopo le calamità, un progetto di rilancio immediato subito in agenda il piano neve e la depurazione delle acque per garantire la balneabilità. E siamo alle pagine di Pescara, ladro ferito da un colpo di fucile, il colpo partito accidentalmente dall'arma del padrone di casa, la colluttazione dopo il furto è andato a monte a causa dell'allarme, arrestato e piantornato in ospedale dopo la fuga, un romeno di 18 anni caccia al complice che è riuscito a dileguarsi. Davide non si dà pace per Jennifer, omicidio Sterlecchini, l'avvocato De Marco, aspettiamo le perizie, campagna della polizia su donne e violenze, questo non è amore. Poi ancora Pescara non si pensi a scippare il rettore, Mauro Febbo interviene sulle elezioni ad annunzio, la scelta tocca a Medicina. Avanti ancora con il benvenuto del sindaco ai nuovi nati, cerimonia in comune, Alessandrini consegna 57 bebè la carta d'identità con residenza nella città dell'amicizia. Noemi è arrivata a Capodanno, Sofia ha regalato gioia ai suoi genitori nel giorno della tragedia di Rigopiano. Kit in omaggio alle famiglie, i progetti futuri illustrati dall'assessore Antonella Allegrino. Poi in basso, biciclette a bordo dei treni abruzzesi, la regione paga il costo del trasporto. Rigopiano, il RIS sul luogo della strage, oggi il sopralluogo del reparto scientifico dei carabinieri, incaricato di ricostruire percorso e potenza della valanga. Il consulente della procura, Igor Chiambretti, tanta neve e molto fredda, una precipitazione anomala per l'Appennino. Poi in basso, l'Isizza, la regina del piano domani a Montesilvano, la concertista ospite della scuola civica musicale. Voleva esibirsi in una regione terremotata, un regalo inaspettato per i 20 anni dell'istituzione, un colpaccio per la Columbaru. Avanti ancora con le pagine dell'Aquila. Abbiamo visto in precedenza il servizio fabbrica di droga in una casa inagibile. 14 le persone arrestate, sequestro di sostanze stupefacenti per un valore di oltre 65 mila euro. Per lo spaccio della cocaina è scattata la contestazione di associazione a delinquere per quattro degli indagati. Scuole sicure, nasce ufficialmente il comitato. Avanti ancora, sempre all'Aquila. Il parcheggio Collemaggio riparte il Tapirulan per rilanciare il centro. Tornato in funzione, il collegamento che consente di arrivare in 10 minuti a Piazza Duomo era fermo dal 6 aprile del 2009. Poi in basso la politica. Fronte centrosinistra, primaria, un duello tutto giovane. Si profila una sfida tra Pietrucci e Di Benedetto. Forse in campo anche Benedetti e Di Nicola. Fronte centrodestra, striscione pro Liris, uno di noi. In Marsica, GL, il comune di Avezzano, vince in cassa un milione. La sentenza della Corte di Cassazione è arrivata dopo oltre 30 anni di attesa ed è stata definita una decisione storica. Riguarda alcuni capannoni in Via Nuova che erano stati di proprietà dell'ente Fucino. In seguito è diventato arsa. Pagina di Chieti, Frane e Voragini. Il conto dei danni sale a 2 milioni. Ieri in Piazza Garibaldi e nelle altre aree di crisi il sopralluogo del sottosegretario della protezione civile Mazzocca con il sindaco. Anticipazione dello stato di emergenza e trattativa con lo Stato per ottenere i fondi, gli impegni assunti dalla regione. Da Piazza Garibaldi a Via della Porta, Via Olivieri, Madonna della Vittoria è la prima città in cui intervenire, ha detto Mazzocca. Acqua e neve, quell'allarme suonato in Via del Grosso e Via Don Minzoni. La costante storica del Colle, aggravata da mancata manutenzione e fondi mai spesi. E poi la crisi al comune di Ortona, d'Ottavio, dimissioni irrevocabili dalle standard coletti, lo invitano alle primarie del PD, ma lui si sente scaricato dal partito per un mandato bis. Cieri di Forza Italia, certo, con il commissario non andrà peggio. Nel centro-sinistra salgono le quotazioni di Marcheggiano per Leo Castiglione. Una scelta ingiustificata e incomprensibile, ma ora si scelga una squadra coesa. Avanti ancora con Teramo, panico, evacuate le scuole. Il sindaco convoca i presidi, scattano i piani di messa in sicurezza, ma non sono uguali. Scoppia il caos, polemiche per la poca organizzazione. Vogliamo sapere come dobbiamo agire. La scossa di 3.6 avvertita distintamente, per fortuna non si registrano ulteriori danni dopo lo sciame di agosto. E allora andiamo a vedere il servizio confezionato dalla nostra redazione Teramana. A Teramo, San Valentino, con scossa. Questa mattina alle 9.30, con epicentro ad accumuli e magnitudo 3.8, la scossa, seppur lievemente, è stata avvertita in città. Ma è bastato perché nelle scuole superiori, medie ed elementari, scattassero le evacuazioni. Alcuni studenti si sono subito riversati in strada con i loro professori. Altri non avevano capito di dover uscire, altri ancora, come i più piccoli della scuola San Giorgio, disorientati, aspettavano il suono di tre campanelle, segnale di sgombero immediato, che non è arrivato. Che cosa è successo questa mattina al liceo classico di Teramo? Allora, stavamo facendo lezione e a un certo punto noi della nostra classe abbiamo visto che comunque c'erano diverse classi della scuola che erano uscite e si trovavano radunate in piazza e quindi ci siamo un attimo allarmati perché ci è venuto subito in mente che potesse trattarsi del terremoto. E quindi vi hanno fatto uscire, vi hanno fatto evacuare? Sì, non immediatamente perché non è suonata l'allarme, non è suonata la sirena, quindi l'unica cosa che ci ha fatto pensare al terremoto è stato il fatto che abbiamo visto altre classi fuori. Come è andata questa evacuazione? È stata disastrosa perché la maggior parte dei professori non voleva farci uscire, avevano detto che dovevamo rimanere dentro la scuola fino a quando non fosse suonata la campanella ma metà istituto già era evacuato e quindi dopo che comunque molta gente si è spaventata abbiamo preso e siamo usciti da soli. Sapete qualcosa se domani tornerete a scuola? Beh, io penso che se per un 3.8 non torniamo a scuola adesso non ci torneremo più, quindi presumo torneremo domani, anzi io lo spero sinceramente. Un po' di confusione dunque nelle scuole terramane, nella prima vera evacuazione di un dopo scossa e come in tutte le cose c'è anche il lato positivo. Oggi è San Valentino, il giorno degli innamorati e questa mattina senza lezione a Teramo per colpa del lieve terremoto ha però rafforzato nei ragazzi la voglia di scambiarsi affetto con fiori, sorrisi e un cappuccino caldo. Sì, almeno ce la vogliamo questo giorno d'amore, dai. Tu che cosa hai regalato alla tua fidanzata? Io personalmente niente, perché reputo che questi regali, questa festa soprattutto non mi piacciono perché se uno vuole divostare l'amore lo fa durante tutto l'anno e non solo durante la festa. Proseguiamo sempre sul messaggero Abruzzo, frane ancora allarme sopra il luogo di D'Alfonso, il governatore ad Atri dove ci sono le famiglie evacuate, fracassa sollecite, il gene civile, servono ponti sicuri. E poi ancora a Giulia Nova, Mastro Mauro, la Pagliaccetti non si tocca, il vice coordinatore di Forza Italia avanza la proposta di trasferire la media in via definitiva all'ex tribunale. Il no del primo cittadino puntiamo a fare in modo dopo i lavori che tutti i ragazzi a settembre tornino nella loro scuola, compresa Colleranesco. Ma saranno effettuati controlli di vulnerabilità anche agli uffici giudiziari. A Roseto, la Ciancaione, utilizzare i fondi per le scuole sicure, la consigliera di opposizione e le risorse in bilancio sono state già approvate. Lasciamo ora il messaggero Abruzzo, ci torneremo poi per lo sport e andiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo e ripartiamo da pagina 5. Il decreto contestato, la protesta inizia al casello di Colledara sabato mattina alle 9, la prima manifestazione pubblica degli abitanti della valle siciliana esclusi dal cratere. Alla protesta sono stati invitati gli amministratori e i cittadini di tutti i comuni della montagna esclusi dal cratere sismico. I promotori quali sono? A promuovere la manifestazione, il comitato civico crescita comune di Isola del Gran Sasso. E poi ancora psicosi, terremoto, terramo panico, terramo nel panico per una scossetta ad accumuli. Abbiamo visto pochi minuti fa il servizio, scuole evacuate, studenti in strada e traffico paralizzato per il primo evento durante l'orario di lezione. A sei mesi della prima scossa nulla è cambiato nell'affrontare le situazioni d'emergenza se non il panico più forte, più ingestibile e più contagioso. E poi ancora nel pomeriggio riunione in un municipio tra sindaco, tecnici e dirigenti scolastici sulla gestione delle emergenze. Il primo confronto sul tema dopo sei mesi di terremoto. E poi il primo treno del polo scolastico è già passato, niente progetto esecutivo, ecco perché Isola e Montorio sono state le priorità. Una provincia in frana, primi fondi per sistemare strade, ponti e smottamenti. Il governatore D'Alfonso a Casoli di Atri e Ponzano di Civitella per annunciare i lavori più urgenti. Evacuate 18 famiglie tra le due frazioni di Casoli e Villa Ferretti, monitorate altre abitazioni sulla strada 553 di collegamento con Pineto. In più punti a rischio frana sulle vicine abitazioni. Poi ancora a Teramo lo spopolamento è stata una fase transitoria. La cartina di Tornasone è il boom delle vendite in città sugli immobili nuovi delle agenzie immobiliari. Poi ci sono le testimonianze di Alessandro Lagonigro, Gianluca Rapagna ed Elena Colasanti. Il mercato del nuovo va fortissimo, ha in poco tempo smaltito un patrimonio immobiliare di invenduto notevole. La voglia di ripartire c'è, servono incentivi sul sociale, la movida e l'università chi di dovere si dia da fare. Poi forse la paura del sisma ha accelerato solo una decisione già presa di trasferirsi lungo la costa. Molti terramani si sono spostati appunto sulla costa, nella casa al mare o in affitto, ma non hanno venduto casa. Molti cittadini dell'entroterra stanno invece comprando casa in città. Avanti ancora Renzo e Renzi, il PD è una pentola a pressione. Rete d'emme critica l'organizzazione terramana del partito e la linea rispetto alla segreteria nazionale. Aspettando la soprintendenza, la situazione del corso da decidere come evidenziare i resti dei portici ottocenteschi. Avanti ancora con la situazione in provincia. Inchiesta sui rifiuti in sei rischiano il processo. Chiesto il rinvio a giudizio per Ercole Diodoro e per dirigenti ed ex amministratori di Silvi e Roseto. Richiesta di archiviazione per sette indagati, tra di loro gli ex sindaci di Roseto e Mosciano, Pavone e Di Marcello. Intercettazioni, cimici, centinaia di documenti sequestrati. Un'attività avviata nella primavera del 2014 dalla finanza su delega della procura, in seguito ad un esposto che denunciava presunte irregolarità negli affidamenti dei rifiuti alla società rosetana di odorecologia SRL. Avanti ancora, a Tortoreto Augusto di Stanislao scende in campo. L'ex onorevole rompe gli indugi per le amministrative di Tortoreto. Centrosinistra diviso. A questo punto si fa sempre più concreta la possibilità di due liste di centrosinistra. E poi ancora Giulianova, Ospedale, Ragni e Cinque Stelle ci ripensano tra i più critici sul documento del sindaco. alla fine votano a favore a Roseto. Scuole Ciancaione vuole subito i controlli. La consigliera spinge per le schede di vulnerabilità. Servono fatti e non parole. Andiamo sulle pagine dello Sport. Ieri a Terramo la presentazione del nuovo allenatore. Ugolotti, chi non ha rabbia, non giocherà. La tifosera sprona la squadra ad un maggior impegno. In Coppa si gioca il 2 novembre con la Lupa. Dopo la Coppa Italia il primo contatto con l'allenatore risale alla serata di mercoledì. Dopo la sconfitta con l'Ancona. Trovare soluzioni servirà a far capire la situazione di classifica in cui siamo. I ragazzi devono metterci rabbia. Queste le parole appunto del tecnico Ugolotti. E poi c'è l'attacco frontale del presidente Campitelli all'ex tecnico Zauli. Doveva dimettersi il patron duro verso l'ex tecnico. Un errore grave averlo richiamato in panchina. Se Zauli me li avesse chiesti gli avrei comunque dato tutti i soldi che gli aspettavano. Bolla mi ha detto che quello era il massimo che si poteva fare. Non sono d'accordo. Queste le dure parole del patron Terramano Campitelli. Ma torniamo sul centro e sul messaggero con le pagine dello sport. Ripartiamo dalla vicenda del Pescara vedendo i titoli del centro e del messaggero. Ecco le due pagine del centro. Pescara in confusione. Oddo saluta a testa alta. Chiedo scusa alla città. Le tensioni con la dirigenza esplodono in un faccia a faccia. La società poi decide per l'esonero. Da domenica un susseguirsi di colpi di scena che sanciscono. La fine di un idillio. Le strade si dividono dopo che lunedì il tecnico era stato confermato da Sebastiani. Squadra affidata a Zauri in attesa del sostituto. E c'è il commento di Rocco Coletti. L'ultima farsa di una stagione da dimenticare. Come se non bastasse da domenica sciopero del tifo. Che era stato annunciato con un comunicato dei Pescara Rangers prima ancora del esonero del tecnico Oddo. Da domenica appunto sciopero del tifo. Da qui alla fine non entreremo in curva nord. Hanno detto e scritto i Rangers. Gli scenari. La caccia al sostituto. L'obiettivo è riportare Zeeman in biancazzurro. Operazione non facile. Dopo le frizioni sorte con il tecnico nel corso dell'estate 2015. Oggi l'incontro tra la società e il Boemo. Restano in lizza i nomi di Liverani e Decagno. Vediamo ora sul messaggero Abruzzo la pagina sul Pescara. Il Pescara richiama Zeeman per Oddo dopo la conferma di lunedì. Ieri a sorpresa le sonero dopo un incontro con il presidente Sebastiani. La prima scelta è il Boemo. Forse è già oggi l'incontro per convincerlo ad accettare. Altrimenti tocca a Liverani. E poi c'è l'articolo di Pierpaolo Marchetti. Quell'amore finito nel giorno di San Valentino. Poi ancora quest'anno ho fallito. Chiedo scusa alla città per il tecnico. Dopo il ben servito niente commenti ma soltanto un lungo saluto su Facebook. Allora vediamo il servizio che abbiamo confezionato sull'esonero di Massimo Oddo. Il dietro fronte è servito a metà di un martedì pomeriggio che segnava la ripresa degli allenamenti della squadra. Massimo Oddo non è più l'allenatore del Pescara. Sollevato dall'incarico al pari del vice Marcello Donatelli. Un epilogo che era nell'aria nelle ore seguenti alla disfatta di Torino. Ma le modalità sono clamorose per il semplice motivo che appena la sera prima la società stessa aveva annunciato tramite comunicato che dopo una giornata fatta di incontri e valutazioni Massimo Oddo e il suo staff avrebbero continuato a guidare il Pescara confermando dunque il tecnico dell'ultima promozione. Invece mentre la squadra svolgeva la prima seduta settimanale si consumava l'incontro tra Sebastiani e Oddo quello che ha sancito il divorzio tra le parti. Niente dimissioni ma esonero. Squadra momentaneamente affidata al collaboratore tecnico Luciano Zauri in attesa del nome del nuovo allenatore. Il comunicato dell'esonero parla di sacrificio con il quale responsabilizzare l'attuale gruppo di calciatori affinché non si ripetano mai più prestazioni come quelle offerte. Sottinteso aggiungiamo noi negli ultimi tempi solo nel girone di ritorno 5 partite, 5 sconfitte e 20 gol al passivo. Anche se si potrebbe estendere quasi all'intero campionato. Massimo Oddo paga una stagione senza vittorie sul campo con appena 6 punti reali frutto di altrettanti pareggi. Con la difesa peggiore del torneo, soprattutto l'aver portato avanti un progetto tecnico fallimentare e aver condiviso, non senza qualche mugugno, un mercato estivo dove alcune scelte dell'allenatore stesso hanno avuto un impatto considerevole. Il mancato arrivo di risultati anche nella fase migliore della squadra, cioè nei primi due mesi, ha minato la stabilità e l'autostima di un gruppo che è diventato fragilissimo nel corso dei mesi, dando dei timidi segnali di vita nelle gare proibitive, ma steccando in maniera plateale e clamorosa le gare all'apparenza più alla portata o comunque più giocabili. Se Massimo Oddo è rimasto così tanto sulla panchina, nonostante tutto, lo si deve allo straordinario credito accumulato da quel 16 maggio 2015, quando da allenatore della primavera Biancazzurra fu chiamato a sostituire Marco Baroni alla vigilia dell'ultima giornata di campionato di Serie B con il Livorno, portando la squadra a un passo dalla Serie A, con un cambio di mentalità infuso alla squadra ed una serie di scelte anche in termini di comunicazione che hanno riacceso la piazza. Nel successivo campionato Oddo ha costruito una squadra propositiva, sfacciata, sbarazzina e nobilitata dalle prodezze di Mr. Trentagol Gianluca Lapadula, infiammando l'ambiente, specie nella prima parte di stagione, fino a centrare, come Zeman, sette vittorie consecutive. La società non ha esitato a lasciare al suo posto nel corso della mini-crisi che ha impedito al Delfino di lottare per il vertice nove gare senza vittorie e play-off quasi in pericolo prima che il finale di stagione restituisse una squadra meno spavalda ma più matura, capace di centrare il quarto posto in campionato e quindi la promozione in Serie A tramite i play-off. La continuazione del progetto tecnico sembrava per tanti la carta vincente per la salvezza o per giocarsela fino alla fine, ma la Serie A non ha fatto sconti neanche ad un allenatore così rampante e in ascesa. La A non perdona, troppo divario economico tra le neopromosse e le altre. Per giocarsela serve un altro tipo di approccio, un'esperienza della quale Oddo saprà fare tesoro. E vediamo ora invece il cambio in casa Teramo sul messaggero Abruzzo voglio un Teramo con la mia rabbia, queste sono le parole di Ugo Lotti ovviamente ci sono dei problemi ma ce la faremo Campitelli attacca Zauli, mi sarei aspettato le sue dimissioni gli avevo dato due possibilità, considero questo e sono nella mia sconfitta detto il patron bianco-rosso, sul centro Ugo Lotti Teramo ci salveremo, il patron Campitelli stronca Zauli non mi è piaciuto ha preso per i fondelli sia la società che i tifosi e poi il nuovo tecnico ho una grande rabbia dentro perché è stata dura rimanere a casa finora se non credessi nella missione non sarei qui l'intervista al nuovo allenatore del Teramo Guido Ugo Lotti In conferenza stampa un passaggio fondamentale del suo arrivo a Teramo ci ha colpito, la rabbia per essere stato fuori dal mondo del calcio per qualche mese è questo l'ingrediente che porta Guido Ugo Lotti a Teramo? Beh, è anche questo, nel senso che io non mi sono mai spaventato delle situazioni perché quando un allenatore sta fuori è normale che spera sempre di essere chiamati in situazioni più semplici ma quando le situazioni sono semplici non si cambiano allenatori, si va avanti con gli allenatori si subentra in situazioni difficili, in situazioni che sulla carta possono essere molto complicate tante volte si riesce a dare una svolta, tante volte non si ci riesce la rabbia che uno porta è del fatto di rimanere fuori perché uno ha piacere a fare questo mestiere di conseguenza quando non vengono i risultati e quando uno squilla il telefono noi viviamo di questo, viviamo di conseguenza uno cova dentro, va a vedere partite, cerca di documentarsi però poi alla fine ti manca il campo e poi devi andare sul campo e cercare di dare quello che tu pensi, quello che vuoi trasmettere a questa squadra E questa situazione quanto complicata è? Ma sulla carta è abbastanza complicata, la classifica la parla chiaro questa è una squadra che in questo momento ha una partita in meno però è penultima la zona salvesa è lì a pochi passi, ci sono tante partite da giocare, partite difficili a partire dalla prossima in casa col Sul Tirole di conseguenza c'è da... sulla carta può essere un'impresa però il calcio è bello per quello perché riserva mille sorprese io mi auguro che questa sia un'avventura a lieto fine E ci vorrà un ugolotti più fine psicologo che fine stratega almeno all'inizio? No, c'è da lavorare, c'è da lavorare perché questa squadra deve giocare su dei ritmi diversi si ha le capacità di poterlo fare, deve mettere in campo un po' più di rabbia deve essere più aggressiva e di conseguenza c'è da lavorare poi se sono... magari fossero solo problemi mentali cioè nel senso che uno va, parla con i giocatori e si risolve la problematica no, tante volte c'è da trovare, c'è da fare dei risultati i risultati sono la medicina migliore La Rosa, la vista, la conosce parzialmente come la giudica adatta per un obiettivo come quello della salvezza? Io penso di sì, altrimenti non avrei accettato Chiudiamo sul centro Paris, pronto a cedere l'Avezzano, il presidente stufo delle contestazioni regalo la società. Basket dia 2, Cimo Rossi, teppisti vergognatevi il numero 1 Rosetano Furibondo per l'ennesima multa la proger su De Cosi di Treviso, dopo i no di Marcinkovic e di Gilbert e infine ieri la visita nella redazione del centro di Paolo Nicolai un campione in redazione, io la popolarità e l'obiettivo Tokyo 2020 la medaglia olimpica di beach volley al centro, entusiasmo e lavoro mi sto cimentando anche nell'organizzazione di eventi dice Nicolai, stiamo lavorando a un circuito Under 23 che a fine giugno toccherà anche Pescara Chiudiamo qui con l'edizione di mattino 6 l'appuntamento con i nostri notiziari alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23 è tutto, grazie a Claudio Di Giacomo in regia e a voi per la cortese attenzione, buona giornata a voi per la cortese attenzione, buona giornata